In A1 fare attenzione per vento forte segnalato tra Sestri Levante e Livorno. Sulla FIPILI lavori tra Livorno Porto e Darsena Toscana Est in direzione Livorno. Sulla Statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. A Firenze in via Borghini fino al 29 novembre di vieti di sosta e restringimento di carreggiata all'angolo con Piazza delle Cure. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!